Da anni impegnata nella formazione di badanti e os, ABC Assistenza di Busto Arsizio ha adeguato i suoi protocolli alle normative anti-covid e per offrire tutela alle famiglie e alle lavoratrici, non solo promuove corsi di aggiornamento e di formazione costanti, ma si impegna anche per garantire che il personale di assistenza possa accedere al vaccino. Spesso sono le persone anziane malate ad essere accudite, è dunque importante garantire loro protezione e sicurezza, spiega Roxana Hernandez, presidente della società cooperativa. Proprio con Malpensa Pienfiere, il centro vaccinale e con l'ospedale di Gallarate abbiamo raggiunto un accordo proprio di vaccinare tutte quelle persone che fanno assistenza, tutte quelle persone che sono sul nostro territorio e che momentaneamente non hanno ancora la tessera sanitaria. Magari perché stanno facendo i rinnovi, per la sanatoria che lo scorso anno c'è stata, non hanno ancora, però sono delle persone che sono sul territorio e che vanno vaccinate, per cui con un accordo con loro stiamo riuscendo a vaccinare sempre più persone. Semplicemente chiunque desidera fare una vaccinazione telefona ad ABC e noi diamo l'appuntamento, o al mattino o al pomeriggio. Abbiamo anche istituito il trasporto per cui chiunque può arrivare tranquillamente e noi lo accompagniamo o a Gallarate o a Malpensa Fiere in tutta sicurezza.